La vittoria si avvicina. Gli occhi gli si stanno chiudendo. Lo sforzo è stato enorme e adesso è il momento di rilassarsi, di gustare il dolce sapore della vittoria. Qualcosa non va, ha di nuovo dolore al collo. Proprio adesso che finalmente si stava rilassando il dolore riappare. Sta cercando un po' di sollievo e sembra che ci stia riuscendo. Ma tutto questo si poteva evitare se solo avesse usato subito in Diba.